salve donna ideale allora la donna ideale non esiste voler volare tutti hanno i loro pregi i loro difetti e quindi trovare una donna che vi soddisfi al 100% è assolutamente impossibile ecco quindi bisogna perlomeno trovare qualche compromesso ecco poi è chiaro che avete diritto a trovare una persona che un minimo vi vada bene anche perché insomma se non c'è qualche minimo interesse in comune la persona vi dice un minimo di qualcosa a questo punto non ne vale più neanche la pena però cercate anche di non essere troppo pignoni di non cercare troppo il pelo nell'uovo io mi ricordo che quando ero ragazzino nella mia famiglia c'era sempre queste vi raccontano queste storie con un vago intento terroristico tutte storie di loro conoscenti di donne che erano magari anche belle donne ma siccome pretendevano troppo cercavano sempre il pelo nell'uovo cercavano sempre l'uomo perfetto alla fine erano rimaste zitelle perché quei tempi la zitella veniva considerata proprio quasi una paria non come oggi che le donne nubili che magari fanno pure un figlio senza tenersi il compagno vengono considerate più dritte e più emancipate delle altre ecco quindi diciamo questo questa cosa che un tempo valeva solo per le donne vale perfettamente anche per gli uomini senza considerare un'altra cosa che poi se siete conosciuti come uomini che non hanno mai una donna appresso dopo poi inevitabilmente vi fate la reputazione dei morti di fighe salute